Saldi estivi anche sul sito di Niba, signori FM24, un prezzo davvero molto scontato, ma non solo, perché tantissimi giochi, molte AAA, addirittura sotto 10€. Come sempre, mi raccomando, per maggiori info, consultate il link in descrizione. I club Under-23 in Italia sono ormai da diversi anni fonte di discussione. La prima squadra bitaliana è stata la Juventus, fondata ufficialmente nel 2018. Da lì sono passati diversi anni prima di vedere la seconda squadra Under-23, l'Atalanta, che è stata fondata solamente l'anno scorso. E per finire, da pochi giorni, è ormai realtà Milan Futuro, una nuova squadra Under-23. Probabilmente tra un anno altri club di Serie A avranno le loro squadre Under-23, ma queste tre squadre, Milan, Juventus e Atalanta, saranno protagonisti nella prossima stagione, la 24-25, in Serie C. Con l'Atalanta nel girone A, il Milan nel girone B e la Juventus nel girone C. Queste realtà possono sia retrocedere che essere promosse, nel caso però della promozione non devono giocare nella stessa divisione della loro squadra principale. Quindi AC Milan, Milan Futuro non possono stare nella stessa divisione. La Juventus Next Gen in questi anni ci ha sicuramente fornito dei dati, sia a favore che contro l'utilizzo appunto della squadra Under-23. Senza girarci troppo intorno, l'aspetto principale legato a questi club, alle squadre B, riguarda lo sviluppo dei giovani. E sono principalmente due le conseguenze che portano a questo sviluppo. Il giocare a un calcio di livello superiore rispetto a quello primavera, e a differenza dei limiti della primavera, dove tu puoi sviluppare un calciatore fino a una certa età, poi diventa fuori quota e sei costretto a darlo via, Ecco, questo limite, questo paletto, non c'è in Serie C. Ci sono sicuramente delle regole da rispettare a livello di registrazione, ma nessuno ti vieta di avere un calciatore di 28 anni in rosa. La Juventus in questi ormai sei anni ha portato comunque dei risultati, perché posso fare il nome di Miretti, Fagioli, Sule, Dragusin, e diversi altri calciatori che, o alla Juventus o in altre squadre, sono comunque poi arrivate a giocare in Serie A. Passiamo per un attimo i contro. Innanzitutto ponendo un dubbio sullo sviluppo di questi calciatori. Cioè, la Juventus è grazie all'Under-23 che certi elementi sono arrivati a giocare in Serie A, o sarebbe andato lo stesso se fossero rimasti in un contesto di primavera per poi successivamente andare in prestito, e poi in futuro tornare eventualmente in prima squadra? Questo sicuramente è un dubbio che è lecito, è un dubbio che comunque hanno diversi tifosi. E sempre a proposito di tifosi, beh, come dimenticarsi delle piccoli, grandi, ex realtà, che vengono sostituite proprio a favore di queste squadre, del Milan, dell'Atalanta, del Juventus, e poi, come ho detto, sicuramente nei prossimi anni seguiranno Inter, Roma e tante altre realtà di Serie A. Proprio recentemente il Milan ha approfittato del fallimento dell'Ancona. E qui un aspetto molto delicato, perché abbiamo una parte positiva, estremamente positiva, e da una parte un aspetto estremamente negativo. Sicuramente c'è più interesse adesso e nelle prossime stagioni, ma soprattutto nella prossima, nei confronti della Serie C, innanzitutto perché ci gioca l'Alcione, ma a parte questo. Ma chiaramente la presenza del Milan, dell'Atalanta e del Juventus, porta un attimino un appeal diverso, maggiore a questa divisione. Però, nello stesso tempo, non possiamo dimenticarci dei grossi problemi che sta avvenendo il nostro calcio, e non solo, perché anche all'estero falliscono molte società. Però, in Italia, ormai, è costante abitudine, ogni anno, ma quasi ogni mese, assistere a dei problemi, a delle sanzioni, a delle presentazioni, e poi, tristemente, a dei fallimenti, anche di realtà davvero molto importanti, oserei dire, storiche, del nostro calcio. Io, in realtà, sono molto combattuto a riguardo, probabilmente, però, se proprio fossi costato a scegliere, sarei contro le Under 23. A mio modo di vedere, non è tanto un problema del dove giocano, per cosa competono, il livello dell'avversario. Secondo me, non è un aspetto così tanto importante e così tanto decisivo. Certo, mi sono ritrovato spesso, sia dal vivo che televisione, a guardare delle partite della primavera 1, ed oggettivamente a livello inferiore, rispetto, magari, a un campionato di Serie C. Però, per quanto riguarda i giovani, secondo me, è sempre un problema di testa, di pressione, di aspettative, e soprattutto di soldi. Troppi soldi girano nei settori giovanili e anche in divisioni davvero molto basse. Questo, secondo me, porta a diversi talenti, a diversi calciatori, di non avere grossi stimoli, grosse motivazioni, grosse aspettative, e si, diciamo, accontentano e rimangono magari in una comfort zone. Se fallisco con la primavera, per me sarebbe già tanta roba firmare per una squadra di Serie D. Questo potrebbe essere il pensiero di diversi ragazzi, che, sinceramente, ci spiazza un po', se pensiamo che magari questi calciatori l'anno prima hanno giocato magari per il Milan, per la Juve o per l'Inter. Al nostro calcio manca il vero talento, il vero campione, da ormai troppi anni. Perché si, dai, appena salta fuori quell'elemento che ottiene qualche numero più interessante rispetto agli altri, si impazzisce. Mille interviste ai genitori, ai nonni, agli zii, ai pronipoti, ai cugini, agli amici, ai vicini di casa. Diventa poi veramente un qualcosa di quasi ridicolo, talmente tanta l'attenzione e la pressione sul ragazzo. E posso fare l'esempio di tanti calciatori, la cui carriera è stata rovinata ancora prima di cominciare ad un certo livello. Ho detto la mia, adesso tocca a voi. Qui sotto nei commenti, mi raccomando, scatenatevi. Io sono convinto di una cosa. I commenti saranno diversi, ci sarà parecchia divisione, un'importante spaccatura nella community per quanto riguarda appunto un argomento davvero molto scottante, molto delicato, che noi oggi vogliamo affrontare in maniera però leggera, perché siamo su Football Manager, siamo in un gioco, ma nello stesso tempo però un experiment, un vedere un po' innanzitutto come gestisce il gioco e capire se anche paragonato insomma alla realtà potremo poi effettivamente assistere a una cosa del genere, perché oggi sì, una simulazione di dieci anni, dieci stagioni, voi nella copertina avete visto il Milan, quindi penserete a Milan, Atalanta e Juventus e basta. E no ragazzi, perché la sorpresa di questo video, che non ho voluto svelare né nel titolo né nella copertina, è che non sono solamente queste tre realtà, che appunto tra pochi mesi, tra poche settimane vedremo coinvolte anche nella realtà in Serie C, ma ci sarà l'Inter, ci sarà la Roma, ci sarà la Lazio, ci sarà il Torino, ci sarà la Fiorentina, queste realtà insieme a Juventus, Atalanta e Milan saranno le protagoniste di questo video, dieci anni con queste squadre B coinvolte su Football Manager 2024. Questo scenario è stato realizzato da Marco, che come sempre ringrazio, questo scenario lo trovate sul canale disco, mi raccomando, link in descrizione, ed in questo momento è disponibile per gli abbonati al canale Viola, come premio per gli abbonati. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni Marco farà uscire sempre su Discord e ringrazio Giananticcio perché sta realizzando un nuovo database dove porterà il Milan B, insieme alla Juventus e l'Atalanta, all'interno di FM24. Probabilmente con due versioni, una con le squadre B giocabili, l'altra invece come appunto in un normale contesto all'interno delle nostre carriere su FM24, quindi con Juventus, Atalanta e tra un po' anche il Milan non giocabili. Quindi ci saranno due versioni, due scelte. Quindi vi consiglio caldamente di unirevi sul canale Discord, così almeno avrete poi l'avviso, la notifica di quando uscirà questo scenario, questo nuovo database. Ma veniamo al nostro experiment. Partenza luglio 2023, girone A, serie C. Abbiamo tre squadre B all'interno di questo girone. L'Atalanta, esattamente come nella realtà, l'Inter B e il Milan B. Nel girone B invece abbiamo tre squadre Under 23. La Fiorentina, la Juventus e concludiamo con il Torino. Concludiamo col girone C dove mi sono dimenticato di una squadra, perdonatemi, ma oltre alla Lazio e alla Roma è presente anche il Napoli B. Ora, cliccando sulla Juventus e andando poi sullo staff della squadra B, lo staff è già formato anche perché questa squadra, questa realtà, è ormai presente nel nostro calcio da diversi anni. Per le squadre aggiunte lo staff si deve formare, però state tranquilli perché tutto questo sarà poi simulato e sarà poi completato nel corso dei mesi. Andando poi sulle rose, qui magari togliamo gli elementi non in squadra, ci troviamo in questo momento dei calciatori che in un contesto normale vedremo tranquillamente all'interno della primavera, a parte la figura di Di Gennaro, però tutti gli altri calciatori prendono comunque parte alla squadra primavera dell'Inter. I trasferimenti della squadra B dell'Inter, così come del Milan, del Napoli, della Juve, della Roma, dell'Atalanta, del Lazio e di tutte le squadre coinvolte in questo experiment, vengono comunque gestiti dalla squadra madre. Quindi nella storia trasferimenti, insieme poi agli Aslani, Frattesi e Bissec, potremmo comunque notare la presenza di calciatori presi non per la prima squadra, ma proprio specifici per la squadra Under-23. In questi dieci anni, quindi, cosa vogliamo vedere? Beh, vogliamo sicuramente capire se le squadre madri di Inter, Milan, Juve e via dicendo utilizzano o meno, sfruttano o meno, i talenti che fanno poi crescere nell'Under-23, che può essere in Serie C, in Serie B in caso di promozione o anche in Serie D in caso di retrocessione. Il primo anno è tragedia per le due milanesi, perché sia Inter che Milan retrocessi in Serie D. L'Inter la peggiore dell'intero girone A, perché colleziona solamente 22 punti. Il Milan ha lottato e non è stato particolarmente fortunato, perché poi alla fine, per via dei play-out, la squadra rossonera retrocede insieme all'Inter in Serie D, ma ha comunque collezionato praticamente più di 20 punti rispetto ai nerazzurri. E soffermiamoci un attimo sul Milan, perché i rossoneri, nella prima sessione di mercato, vanno a completare due operazioni proprio in ottica Under-23. Il primo è un calciatore molto conosciuto alla community FM, Onni Valacari, calciatore di 24 anni che in un contesto normale non potrebbe essere poi implementato e inserito in una primavera, ma con la presenza dell'Under-23, questo calciatore può giocare regolarmente in Serie C. Però qui lo vediamo con una maglia diversa, perché il Milan l'ha preso, vediamo appunto Milan B, quindi il calciatore è della rosa del Milan B, ma è stato poi successivamente girato in prestito. Quindi non si è capito benissimo il perché di questa operazione, ma andiamo con la seconda operazione, ed in questo caso, a differenza di Valacari, il calciatore è stato non solo comprato, non solo spostato in Milan B, ma a differenza del finlandese, effettivamente giocato in Serie C. E parliamo di Yousef Erabi, attaccante svedese, classe 2003. Il calciatore è preso in turno ai 3 milioni, valutazione attuale dai 2 ai 6, il calciatore che ha collezionato 15 presenze in Serie C, collezionando 6 gol e un assist. Soffermiamoci sui numeri di questi calciatori, e cerchiamo anche di capire se hanno totalizzato delle presenze, anche con la prima squadra. Faremo questo lavoro soffermandoci su quelli che sono stati i migliori della squadra B in questa stagione. E sicuramente quello con la miglior media voto è Diego Sia, ale invertita, attaccante esterno, centravanti, del Milan B, che gioca comunque attualmente nella primavera del Milan. Come possiamo notare, il calciatore ha collezionato 5 presenze con Milan prima squadra, collezionando addirittura 2 gol, partendo dalla panchina. È stato però ampiamente utilizzato, ha giocato praticamente tutte le partite in Serie C, segnando 7 gol e fornendo 4 assist. Altro calciatore che addirittura ha collezionato una presenza in Champions è Gioele Perina. Per lui una presenza in Champions, due presenze in Serie A, una presenza in Coppa Italia, 12 presenze, tutte da titolare, con il Milan B in Serie C. E poi vabbè, lo conosciamo bene su FM, sappiamo quanto sia affidabile il Milan, comunque vede in eletto un elemento affidabile, praticamente quasi sin da subito, perché a differenza di altri ha anche presenze da titolare. Una presenza da titolare, 4 dalla panchina, calciatore però che è sempre stato fisso, è sempre stato utilizzato, ed è sempre stato protagonista nel Milan B in Serie C. Andando però nella prima squadra, non notiamo la presenza di un calciatore promosso, perché andando su più giovani, ma comunque guardando poi nello specifico tutte le schede di tutti i calciatori, ci rendiamo conto che comunque questi sono elementi nati, presi per la prima squadra. Nel caso dell'Inter è situazione un attimino diversa, innanzitutto gli acquisti sono stati tutti rivolti per la prima squadra, Crecci, Kivior e Ito, calciatori che è impensabile vederli in Serie C. Ma soprattutto parliamo un attimo dei protagonisti, dei calciatori che hanno reso meglio, sicuramente Owusu, il capocannoniere, ma Owusu che ha collezionato zero presenze con la prima squadra. Andiamo sul media voto, perché il migliore è il centrocampista, Akin Sammiro, ma Akin Sammiro ha solamente, esclusivamente giocato con l'Inter B in Serie C. E questo viene replicato anche per Daniele Quieto, anche lui trequartista, solo presenza in Serie C. L'unico calciatore che insieme a Owusu ha collezionato delle presenze in prima squadra, ma partendo sempre dalla panchina, è l'attaccante Sar. Pure per lui, però stiamo parlando di solo presenze della panchina, certo c'è anche una presenza in Champions League, però poi prevalentemente, esclusivamente squadra B. Realistico? Realistico, perché l'Inter appunto anche nella realtà sfrutta poco i giovani dal proprio settore giovanile. Andiamo a vedere un attimo se lo staff ha subito dei cambiamenti, direi di sì, perché l'Inter ha Gianni Picchioni come allenatore, Giuseppe Carillo come allenatore di seconda, e poi Alberto Galbiati, che è stato un elemento al quale è stato semplicemente cambiato il contratto, o meglio, più nello specifico, la mansione, perché era già comunque sotto contratto all'Inter. Il signor Galbiati, che non dimostra assolutamente i suoi 74 anni. Uno sguardo al girone B, dove abbiamo la Juventus, la Fiorentina e il Torino, e sono proprio queste ultime due ad essere retrocessi insieme alle due milanesi, entrambi appunto in Serie D. Fiorentina con 36 punti, Torino con 29, non bastano assolutamente, mentre la Juventus, come nel caso del girone A, insieme alla Atalanta, raggiunge i play-off, senza poi centrare però la promozione in Serie B. Naturalmente poi guarderemo anche Atalanta e Juventus, due realtà già esistenti, ma il focus principale è chiaramente rivolto alle nuove realtà, alle realtà che abbiamo aggiunto forzatamente. La Fiorentina fa bene, fa bene soprattutto Fallussene, calciatore che ottiene una sola presenza addirittura in Supercoppa Italiana, ma anche in Serie A, però appunto calciatore che è stato principalmente coinvolto in Serie C. Qui stiamo guardando i migliori per numero di gol, andiamo anche a vedere i migliori per media voto, e qui però qualcosina, insomma, la vediamo. Anche Denes, calciatore che è stato coinvolto con la prima squadra, Comuzzo, è stato coinvolto anche in conference, due volte in titolare difensore che viene coinvolto dalla Fiorentina di Italiano, perché ancora qui stiamo parlando della Fiorentina di Italiano, e lo stesso vale per spiaggiare. Insomma, qui vediamo diverse presenze di diversi calciatori giovani che hanno avuto anche una loro chance in prima squadra. Poca roba, perché davvero poca roba, perché il più delle volte si parla davvero di presenza partita in corso, comunque davvero poche, le contiamo sulle dita di una mano le presenze di questi calciatori, però una Fiorentina che comunque, insieme al Milan, qualche elemento l'ha sfruttato per la prima squadra. Andiamo a parlare invece del Torino, dove il Toro, soprattutto su FM, ha dei calciatori che, se vuoi, possono essere anche addirittura pronti proprio per la prima squadra. Sicuramente lui, Genetis, ottimo centrocampista, ottimo prospetto, insieme anche a un ottimo centrocampista, rimanendo sempre su quella mansione, su quel reparto, Ciamaglichella. Però, ecco, esempio, Ciamaglichella invece è un calciatore che Juric non ha praticamente mai visto per la prima squadra. Ecco, un Torino sulla falsariga dell'Inter, perché qui vediamo i migliori del campionato, che però, insomma, non hanno effettivamente avuto delle chance in prima squadra. Ci siamo scordati, ma recuperiamo i trasferimenti, andando a vedere, chiaramente c'è facile anche così poterli notare, perché sono gli ultimi, quei calciatori che sono stati, ad esempio, come Mungu, presi in prestigio per poi essere girati nella squadra B. Quindi qui notiamo in realtà diversi calciatori che poi sono stati poi spostati nella squadra B, non tutti chiaramente, perché poi andando più nello specifico ci rendiamo conto che molti elementi sono poi stati presi anche a poco, ma comunque per la prima squadra. Qui, ad esempio, c'è da una squadra B a una prima squadra, perché Stancovi ce l'avevamo vista nella rosa della squadra B dell'Inter, è stato poi preso definitivamente dal Torino. E poi, vabbè, Valentini, calciatore che insomma conosciamo, lo sta monitorando la Roma, preso per la prima squadra. Andiamo invece sulla Fiorentina, dove abbiamo due preparazioni, quella di Carlos Vivas, elemento per la squadra B, che però non ha praticamente mai giocato nella squadra B, ed è pazzesco, perché comunque aveva una scheda davvero molto interessante, però qui scatta il problema straniero. Qui diciamo il gioco si è comportato in maniera del tutto sbagliata, perché il calciatore viene considerato come extra oe, e quindi per il regolamento della Serie C, così come anche per la Serie B, i calciatori stranieri non possono essere coinvolti in questi due campionati. Quindi qui un errore di calcolo da parte della Fiorentina. Non è un errore, ma è stato preso per la prima squadra invece Samuel Gustafsson. Chiudiamo con il girone C, quello dove abbiamo la Roma, la Lazio e il Napoli. E qui abbiamo delle sorprese, perché, vabbè, diciamo che non è una sorpresa, anzi, è proprio troppo il Napoli, il dato peggiore di questo experiment, perché è la peggior squadra di tutte le squadre B. Se l'Indra aveva ottenuto 20 punti, se il Torino ne aveva ottenuti poco più di 20, il Napoli addirittura chiude il campionato con solamente 13 punti, veramente pochi, per una squadra forse anche in difficoltà, poi dal punto di vista poi della Rosa, anche perché, insomma, siamo sulla squadra B, a differenza di altre realtà, qui davvero pochi calciatori e probabilmente anche con non essere particolarmente pronti per affrontare questo campionato. Il Napoli però si è mosso, si è mosso in ottica squadra B, perché, ad esempio, Ratnik, difensore sloveno, preso e coinvolto nella squadra B e non solo, perché anche ha giocato in Champions. Gautierot, preso per la squadra B per poi essere mandato in prestito a una squadra francese, anche qui, insomma, le stranezze, perché è un elemento del genere, con la scheda che si ritrovò, potrebbe essere assoluto protagonista con il Napoli in Serie C e Sasa, non so se l'ho pronunciato bene, preso invece per la prima squadra, chiudiamo poi con Dovin, sempre preso per la prima squadra. Davvero molto strano il percorso da parte del Napoli, andiamo un attimo a vedere anche lo staff, però qui esattamente come con l'Inter, si prende l'allenatore, l'allenatore in seconda e fisioterapista, quindi lo staff, almeno lo staff base, è stato preso. Si salva la Lazio, la grande sorpresa sicuramente è vedere la Lazio salva e poi il dato più importante, la Roma, la Roma addirittura ha i playoff, una squadra che offre garanzie sia a lato primavera, ma in questo caso anche nella squadra B, Under 23. Per quanto riguarda la Lazio, abbiamo degli elementi ex primavera Lazio come Diego Gonzales che sono poi, diventano assoluti protagonisti in Serie C con la squadra Under 23, però come nel caso dell'Inter, come nel caso anche della Fiorentina e del Torino, poco è il convolgimento in prima squadra, quindi diciamo che non ancora pronti per la squadra principale. Lazio che ha comunque acquistato dei calciatori, calciatori che alcuni di questi sono stati appunto coinvolti per la squadra B. Questo sicuramente è un aspetto molto interessante, ad esempio anche questo, quello di Gonzalo Franco, perché sono calciatori che offrono del talento, sono diciamo calciatori da prendere in prospettiva, non pronti per la prima squadra, ma che come abbiamo detto all'inizio non possono essere coinvolti nella primavera e quindi questo è il vantaggio dell'Under 23, li prendi e li fai giocare in un ambiente diverso senza avere quel limite di età. Andiamo però adesso sulla Roma, la miglior squadra per ora di quelle aggiunte da questo experiment, perché in questa prima stagione veramente fanno il devasto, grazie però anche a sto grandissimo, perché alla fine insomma io qua vedo che il miglior marcatore è Baldanzi, e Baldanzi è un di quei calciatori che non ci azzecca niente in una realtà del genere, è normale che ottenga insomma questi numeri, che ottenga queste cifre, calciatore giustamente coinvolto in prima squadra, però è stato un po' come spesso accade per l'Atalanta e la Juventus, dove si ritrovano elementi della prima squadra spostati nella squadra B e insomma fanno un po' quello che vogliono, la Roma in questo caso tiene risultati straordinari, perché ha avuto dalla sua calciatori che con la squadra B il contesto Serie C non ci azzeccano assolutamente niente. Una Roma però molto attiva nel mercato, molto attiva in ottica proprio squadra B, mi è piaciuta tantissimo, forse davvero una delle migliori sotto questo aspetto, perché esclusivamente colpi per la squadra B, colpi anche di un certo peso, colpi che possono poi alla lunga portare un vantaggio sia economico ma appunto anche livello poi di crescita, perché dal Milan primavera arriva Kevin Zerola, abbiamo visto anche la presenza di Jalot, chiudiamo con Romulo, sempre calciatore preso per la squadra B, ma anche qui c'è quel dato, quel problema che non può essere utilizzato, anche se in realtà qua vediamo un utilizzo, quindi io sinceramente non ho ben capito questa cosa, perché Romulo è palesemente extra UE, ma in teoria non si possono prendere i calciatori extra UE, qui attenzione, colpo di scena una storia all'italiana, perché è l'unica cosa che penso che sia fatta, perché io credo, so quasi per certo che i calciatori stranieri non possono essere presi per la Serie C, sì, se vengono dalla stesso campionato, in questo caso dall'Italia, la storia all'italiana qual è? È che dalla Roma B, dalla Roma A, perdonatemi, è andato alla Roma B e quindi l'ha considerato come trasferimento interno ed è l'unica cosa che penso che sia accaduta per vedere insomma Romulo giocare effettivamente delle partite, ma davvero molto molto forzato. Mi è piaciuta molto la Roma, cioè la Roma è quello che volevo vedere da questo experiment, è una squadra che si muove in maniera intelligente, furba, perché furba con la questione Romulo, però che porta risultati, che porta qualità, che porta effettivamente qualcosa in più al sistema calcio italiano, esattamente come in altre realtà, però abbiamo sempre allenatore in seconda e fisioterapista come unici elementi dello staff. Cinque anni dopo, cosa è cambiato nel mondo delle squadre Under-23? Milan, Inter ed altre realtà sono rimaste a giocare in Serie D. Ora, dico subito una cosa, questo database non è compatibile col database di FM Fusion, perché riguardante sempre l'Italia sappiamo che due database che hanno la stessa bandiera, quindi sono nella stessa nazione, non possono essere caricati insieme, proprio è un grosso limite del gioco, quindi in conseguenza noi non possiamo vedere di preciso cos'hanno totalizzato le Under-23 in Serie D, possiamo solamente avere dei dati di classifica solo nei campionati giocabili, guarda soltanto, però presenti all'interno di questo database, quindi in questo caso Serie C, Serie B e Serie A. non sono state promosse, cioè 5 anni in Serie D queste squadre hanno avuto grosse difficoltà a salire e non ce l'hanno fatta, questo anche perché sappiamo che su FM non esiste il concetto di fallimento, di ripescaggio, quindi la Serie D ti porta ad ottenere la promozione alla divisione superiore, in questo caso della Serie C, solo conquistando il primo posto in classifica e dal momento che comunque sia, sappiamo comunque che ci sono diversi gironi, diversi gruppi, è una lotta comunque difficile perché diventi poi è una squadra non professionista, insomma immagino anche le difficoltà per questa realtà di salire, insomma nei Milan e nei Inter ce l'hanno fatta, in questo caso abbiamo dopo 5 anni nel 2027 sempre la Juventus e sempre l'Atalanta però essere abbastanza in difficoltà perché entrambe hanno rischiato di retrocedere. Uno Juventus che in questi anni ha raccolto pochissimo dalla squadra B, facciamo adesso un recap di quanto ottenuto in questi 5 anni e lo faremo anche poi dei 10 anni totali di questo experiment, ma sia in entrata che in uscita è una squadra che ha guadagnato veramente poco e quel poco non è sicuramente arrivato dagli elementi della squadra Under 23. Andando ad esempio sulla prima squadra l'unico calciatore che è stato utilizzato maggiormente nella squadra B è stato Ildiz però noi sappiamo nella realtà essere un calciatore comunque utilizzato già comunque in prima squadra e già insomma con un utilizzo abbastanza ampio abbastanza importante. Qui Ildiz nella stagione 24-25 quindi quella che vedremo tra qualche settimana anche nella realtà è stato utilizzato principalmente nella Juve Next Gen collezionando comunque dei numeri discreti buoni non eccezionali e sempre in quella stagione poi è stato nuovamente spostato e coinvolto in prima squadra. L'ultimo anno ed unico con la Juve Next Gen appunto la stagione 24-25 per poi un utilizzo abbastanza costante in prima squadra. Il resto no ho guardato il più giovane ma è stato subito principalmente coinvolto in prima squadra per quanto riguarda gli altri tutti elementi che sono magari stati in passato come Miretti come De Winter nella squadra B ma in realtà poi in questo experiment non sono più stati spostati in Serie C. Anche l'Atalanta non è da meno a me piace guardare anche le uscite perché sono curioso mi piacerebbe insomma vedere anche un plus valenza importante un giovane che è formato e poi è rivenduto davvero molto bene ma in questi anni questa tipologia di operazione non c'è stata nel senso che l'Atalanta ha guadagnato 110 milioni ad esempio in quest'ultima sessione di calcio a mercato ma come vendendo Ruggeri vendendo Carne Secche vendendo Boiomo ma sono tre elementi che non hanno mai preso parte alla squadra Under 23 l'unico elemento spostato in prima squadra ma davvero una brevissima parentesi nell'Under 23 è Luis Lopez Milan B come vediamo nessuna divisione quindi sono in Serie D magari addirittura anche sotto la Serie D non lo sappiamo però sicuramente non sono in Serie C e non sono riusciti a tornare in C in questi 5 anni qui però una cosa interessante un aspetto molto interessante che può essere e sicuramente sarà l'aspetto principale dell'utilizzo dello sfruttare le Under 23 prendiamo l'esempio di Camarda qui nel caso non abbiamo Camarda ma abbiamo un certo Lorenzo Granelli un Nugent lui può essere considerato il Camarda del Milan perché nasce al Milan stagione 23-24 gioca in primavera lo stesso lo fa la stagione successiva dove colleziona 83 presenze addirittura 48 gol alla terza stagione si dice questo ragazzo deve per forza giocare a un livello più alto allora spostiamolo nella serie C 6 presenze 4 alla panchina 10 gol numeri clamorosi non per la serie C ma per la serie D si decide poi di puntarci definitivamente la stagione successiva numeri rapportati poi con le presenze un attimino meno interessanti ma comunque il valore e la valutazione del 9 rosso-nero è molto importante perché si parla di 19,5 59 milioni un talento insomma che deve solamente adesso poi avere chance in prima squadra però qui abbiamo esattamente come la Juve l'Atalanta un Milan che è poco attivo nel mercato in uscita soprattutto per quanto riguarda la questione giovani e per la prima squadra cerchiamo anche così di capire di informarci vedere se qualche elemento ex under 23 è poi un elemento fisso della prima squadra Lebec non lo è però potrebbe sicuramente essere liberale infatti liberali diventa insomma uno dei pochi profili poi da avercela fatta è un po' altalenante insomma perché lo vediamo Milan B Milan prima squadra Milan B prima squadra però in quest'ultima stagione sicuramente sono ottimi i numeri per il trequartizio rosso-nero perché ha collezionato ben 15 presenze in prima squadra pensate lo stesso Erabi ve lo ricordate è stato uno dei primi profili che abbiamo visto per questo experiment sempre poche le presenze con Milan prima squadra però c'è è lì e viene un minimo considerato io già so che molti saranno pronti con e anche Marotta League all'interno di FM si scherza chiaramente l'intre però per ora è l'unica che ce l'ha fatta perché quel concetto di guadagnare qualcosina da un elemento che faccio crescere con il settore giovanile con l'Under 23 l'ha fatto con Fanyel Tuelde perché è un calciatore che è stato poi venduto al doppio al PSG ora non stiamo parlando di chissà che plus valenza ma comunque sia l'esperienza con l'Inter B ha portato interesse poi al PSG che ha poi deciso di investire di comprarlo ma di non utilizzarlo in prima squadra perché attualmente il calciatore norvegese gioca nella squadra B del PSG l'Inter come il Milan ha dalla sua un elemento anche qui attaccante che può valere potenzialmente molto e può crescere in maniera davvero molto importante ed interessante stiamo parlando di Alvise de Chiara però qui a differenza dei rossoneri c'è un trattamento diverso ha senso e non ha senso nello stesso tempo la questione prestito la questione prestito c'è ed viene comunque costantemente utilizzata per quelle squadre che non hanno un under 23 ma hanno ancora la primavera e lui essendo in un'età da primavera è stato appunto mandato in prestito però hai la squadra B sfrutta la squadra B qui però l'Inter cosa ha pensato ha pensato a noi non giochiamo ad un livello così esageratamente alto siamo in Serie D abbiamo difficoltà quindi probabilmente è un contesto dove il ragazzo può andare in crisi questo è il pensiero dell'Inter ma in realtà è un pensiero secondo me è sbagliato però loro decidono e ha anche senso di mandarla al Cerignola che all'interno di questa divisione di questo experiment allenata da David Suazo ex attaccante proprio dell'Inter ma giocano in Serie C a un livello superiore il girone B complimenti a Roma e Lazio perché sono le uniche due squadre che poi alla fine sono sempre salvate in questo experiment loro costantemente in Serie C la Roma poi ci regalerà delle sorprese davvero molto interessanti però anche la Lazio insomma si è comportata davvero molto molto bene e hanno mantenuto appunto la divisione però a differenza di Inter e Milan qui il valore non è cresciuto tantissimo e anche l'utilizzo nel senso che la Roma si era comportata in realtà bene in una prima parte di experiment soprattutto nella prima stagione poi per cessioni per utilizzo per valore per crescita non c'è stato c'è stato un mantenimento della divisione a differenza delle realtà milanesi e quella del Torino e quella della Fiorentina e quella del Napoli ma non c'è stato appunto quel concetto di crescita lo stesso lo possiamo forse dire sulla Lazio discorso però diverso rispetto alla Roma perché Beno Selan centrocampista è stato un colpo preso dalla Lazio sfruttato in primavera per poi essere sfruttato in prima squadra quindi ecco questo concetto di creare valore di in questo caso più che creare valore utilizzarlo sfruttarlo per la prima squadra effettivamente c'è stato perché Selan ha collezionato non poche presenze con la prima squadra ma è stato principalmente sviluppato nella squadra B in Napoli ad esempio è come se si fosse dimenticato di avere una squadra B la squadra B comunque esiste è comunque costantemente rinforzata almeno come numero di calciatori però vedete anche la enorme esagerata quantità di calciatori under 19 under 20 questo perché in un contesto di serie D ci sono delle regole molto limitanti che vanno un po' a far perdere il senso delle squadre under 23 perché in serie D tu hai l'obbligo utilizzare diversi calciatori under 20 di conseguenza è come ritrovarsi praticamente ad avere una squadra primavera 2.0 quindi sei sempre limitato ogni stagione devi rivoluzionare la squadra non puoi mantenere gli stessi elementi per troppo tempo questo è chiaramente un problema anche di Inter e Milan che però in qualche modo sono riusciti a gestire meglio nel caso del Napoli invece ha avuto grosse difficoltà e questo poi non porta a portare in prima squadra degli elementi che sono poi stati cresciuti nel settore giovanile l'unico è Sassà l'unico è Sassà che ha collezionato qualche presenza in più ed effettivamente poi è diventato un elemento non principale perché lo vediamo disponibile in prestito ma comunque un elemento fisso della prima squadra e stesso discorso la Fiorentina vedete appunto non ci sono cioè quei pochi elementi che hanno più di 20 anni sono poi stati mandati in prestito la serie D per non creare troppe difficoltà poi alle squadre più giovani ha e meglio è appunto per non avere problemi nel corso della partita in caso di infortuni qui la gran parte dei calciatori che supera i 20 anni è stata data in prestito e questo poi porta delle difficoltà alla Fiorentina al Torino al Milan all'Inter e allo stesso Napoli per poter tornare in serie C perché dall'altra parte ci sono squadre serie D che hanno sì giovani ma hanno sicuramente più calciatori esperti che possono insomma portare maggiori benefici chiudiamo con il Torino ma anche qui sia per valutazione che per utilizzo non ci sono calciatori provenienti dalla squadra B lo stesso identico discorso per le altre realtà ormai essendo protagonista da diversi anni in serie B solo calciatori Under 20 Under 19 ed una squadra che viene ogni anno insieme alle altre costantemente e troppo rivoluzionata dopo dieci anni in realtà in questo caso al nono abbiamo la grossa sorpresa di questo experiment l'unica squadra Under 23 che è riuscita a conquistare la promozione e parlo anche di Atalanta Juventus quindi di squadre già esistenti all'interno del gioco è la Roma la Roma è l'unica che ce l'ha fatta nella stagione 31-32 ha conquistato l'accesso alla serie B ha preso parte al campionato di serie B un'avventura un'esperienza che è durata pochissimo perché hanno poi concluso il campionato diciannovesimi con solamente 25 punti ma una squadra che a differenza delle altre ce l'ha fatta c'è un dato particolare che coinvolge un calciatore di cui abbiamo parlato poco fa Fanyel Tuelde il calciatore norvegese che era dell'Inter Under 23 che è stato mandato al Paris Saint Germain Under 23 che poi successivamente è stato comprato dalla Roma non Under 23 ma prima squadra ha giocato alla Roma prima squadra per poi essere acquistato dall'Atalanta insomma un bel giro però forse possiamo dire che questo è l'unico calciatore di questo experiment che in qualche modo ce l'ha fatta cioè che nel senso che in qualche modo sfruttando quelle poche presenze non tantissime perché poi vediamo solamente 16 presenze nell'Under 23 dell'Inter alla fine poi si è ritagliato dello spazio si è ritagliato dei contratti importanti ed è diventato comunque un elemento abbastanza utilizzato dall'Atalanta in Serie A mi soffermo sulla Roma perché la Roma probabilmente è davvero la migliore la migliore che ha sfruttato non magari in prima persona ma ha sfruttato il lavoro di altri andiamo con ordine perché qui ci sono un po' di elementi da dover guardare partiamo da Mirko Scienzi valutazione tra i 30 e i 90 milioni questo calciatore è stato inizialmente cresciuto dall'Inter si è fatto dal 26-29 la squadra B Prestiti e poi Roma parentesi squadra B costante utilizzo in prima squadra questa è la sua scheda questa è la sua valutazione più in alto 27enne Kjelsen calciatore che viene non dall'Italia ma in questo caso dal Valerenga è stato preso alla Fiorentina utilizzato sfruttato nella squadra B con 67 presenze è stato 3 anni alla Fiorentina in squadra B preso da una squadra della Premier League dall'Arsenal una serie di prestiti poi alla Roma questa è la sua valutazione attuale questa è la sua scheda attuale e poi il famosissimo Hausen come nella realtà alla Roma breve parentesi però anche in primavera anzi scusate nell'Andre 23 e poi tanti anni alla Juventus next gen ben 5 stagioni perché la Juve l'ha coinvolto davvero poco in prima squadra questo coinvolgimento è avvenuto solamente la stagione 25-26 in poi e poi il passaggio alla Roma è questa la valutazione attuale un difensore che comunque grazie insomma a questa esperienza tra serie C con la Juventus tra serie C sempre con la Roma è poi diventato un elemento fisso della prima squadra la Lazio in questi anni ha sempre mantenuto il posto in serie C senza essere promossa nella serie B insieme ai giallorossi la Lazio prima squadra vediamo se ha diciamo sfruttato le stesse mosse dei giallorossi in realtà no perché l'unico calciatore di valore è questo Slagers che però ha collezionato solamente due presenze con la squadra B è stato praticamente un calciatore preso forse solo per la prima squadra e per quanto riguarda le cessioni non abbiamo cessioni importanti di ex calciatori under 23 è il turno della Juventus la squadra B della Juve sempre in serie C ma diciamo una promozione in serie B per quanto riguarda la prima squadra diciamo che noi qui abbiamo ancora quegli elementi che nella realtà hanno giocato negli Juve la next gen non mi soffermo molto sul Napoli Torino e Fiorentina la serie D ha complicato un po' con l'experiment per queste realtà e dopo dieci anni non ci sono praticamente elementi ex under 23 nel Napoli prima squadra tocca adesso all'Inter dove a differenza appunto di Fiorentina Napoli e Torino vediamo troppi elementi sotto i 19 anni in questo caso anche a volte sotto i 18 qui invece mi sembra un attimino più equilibrate ci sono anche degli elementi che hanno più di 20 anni come ad esempio l'ANU che è nel 24 lo stesso Martinelli che è nel 24 vediamo però soprattutto la prima squadra che è la cosa che più ci interessa soprattutto per quanto riguarda poi il valore dei calciatori se notiamo la presenza di calciatori che in passato hanno militato o nell'ANU 23 dell'Inter o nell'ANU 23 di altre realtà due elementi il primo Federico Aquino numero 7 Nerazzurro che è all'Inter prima squadra ormai da diverse stagioni ha collezionato e ha fatto una grandissima stagione praticamente al suo primo anno in maglia Nerazzurra preso in Paraguay al Nazionale ha spostato poi nella squadra B in questo caso in Serie D non c'è un problema di calciatori stranieri quindi il calciatore può tranquillamente giocare anche se extra away ma forse nel caso di Aquino magari c'è anche una doppia nazionalità no quindi proprio puramente extra away il ragazzo insomma il centrocampista Nerazzurro ha brillato in Serie D con l'Inter è stato poi girato in prezzo al Cagliari per fargli fare un'esperienza in una squadra da una divisione maggiore superiore ha fatto bene ha sempre giocato per poi dalla stagione 29-30 diventare un elemento fisso della prima squadra inizialmente numerose insomma le presenze dalla panchina per poi di stagione in stagione collezionare sempre più presenze sin dal primo minuto investimento molto importante quasi 10 milioni per un calciatore che poi è stato depositato nella squadra B che poi si è intervallato tra Inter prima squadra e Inter B in queste però ultime stagioni sono diverse le presenze in prima squadra questa è la sua scheda questa è la sua valutazione beh a prescindere insomma dalla cifra spesa è importante sicuramente perché parliamo di 10 milioni ma sarà comunque plus valenza chiudiamo con il Milan allora partiamo subito col dire che la rosa è cortissima nell'entrata e nell'uscita si sono fatti grossi investimenti però un solo calciatore che possiamo dire che ce l'ha fatta in un ruolo anche diverso perché abbiamo spesso commentato attaccanti e centrocampisti o trequartisti in questo caso parliamo finalmente di un difersore in questo caso terzino un giocatore che può giocare potenzialmente in ogni reparto della difesa ma insomma la sua ruola naturale dovuto anche poi alla predisposizione del piede è sicuramente la fascia sinistra la valutazione di 16-48 milioni è un calciatore che effettivamente è nato cresciuto e rimarrà appunto al Milan il nuovo probabilmente Paolo Maldini perché insomma mi sembra molto simile come storia la miglior squadra di questo experiment alla fine è la Roma non solo per risultati ottenuti sul campo l'unica squadra ad aver centrato la promozione in Serie B ma anche per poi quello che riguarda l'utilizzo effettivo di questi giovani la valutazione che poi si è trasformata di questi giovani ed è aumentata la Roma di Gilardino diciamo che trionfa in questo experiment dedicato alle Under 23 siete soddisfatte di quanto visto in queste simulazioni di 10 anni vi aspettavate altro vi è piaciuta la simulazione di Football Manager fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi signori ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti